Inizia subito la partita e subito con la conclusione vincente di Gianmarco Facchini Quarta rete nel torneo, otto secondi, si sblocca subito la gara, è 1-0 Posizione, Rardinelli si stampa lo pallone sullo collo del piede e poi va in porta, risponde Carovillano Francavillese dietro, però Belardinelli che rovescia così e trova un gol meraviglioso Giordano Belardinelli, 2-0 però il peperoncino Vivi l'acqua in mezzo, bello l'aggancio di Roberti che rovescia Però questa volta c'è Vicky che risponde così, con il piede Attivo verso la porta, para Vicky, Facchini, si gira, Mancino, spacca il palo e il 4 Il lancio lungo di Vicky però Facchini che non trova il pallone con la testa Adesso sì, palo e linea, vicino allo 3-0, un'altra giocata supero da parte di Facchini Sabatino che va con il piazzato, solamente lo palo a evitare il gol all'otto Belardinelli cerca di coordinarsi, giocata, palleggio doppio con il ginocchio Poi si coordina con la rovesciata, evita la conclusione Poi si appoggia Lupino, lui trova la porta 3-0 però il peperoncino Mantiene in campo, poi si difende dalla pressione, è passato il 6 Ancora Roberti, cerca luce, si appoggia però, bevi l'acqua che manca lo stop Calcia, ma trova ancora Vicky Grisini con le mani però, Franca Villese Che anticipa così, con la punta del piede Roscini Batte, caro Villano, 4-0 però il peperoncino Roberti, si coordina, altro legno Però la squadra è maglia gialla Raddoppiato, lui rovescia comunque Fa 2-2 Giordano Belardinelli Che sta mettendo un po' di luce in questa serata Prende la rincorsa Roberti Sempre Vicky attento A coprire la parte centrale Roberti alza il pallone per bevi l'acqua Che si coordina e batte Vicky sullo primo palo Palleggia E poi va alla ricerca di Roberti Che si stoppa il pallone con il petto Cerca di saltare Vicky Roberti trova l'incrocio dei pali Cerca di ritornare in partita Il Wennit Con la rete di Roberti Bellardinelli Bello l'aggancio Rovesciata Questa volta il palo A impedire la tripletta In acrobazia però Giordano Belardinelli Questo pallone Vicky lungo Francavillese di testa Centra la porta Protesta Tutta la squadra è maglia gialla Però l'arbitro convalida il gollo E' 6 a 2 Con le mani lungo però Francavillese Che trova l'angolo alto Quello a destra Di Carovillano 7 a 2 però Il peperoncino Triplice fisco Il peperoncino Vince ancora Alla prima vinto 7 a 3 Questa volta 7 a 2 Primo posto Aguantato Insieme al Village Cursal Grazie a tutti